Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, amido di mais, cacao amaro, zucchero, lievito per dolci, estratto di vaniglia, Nutella, olio di semi di arachidi, acqua calda, uova e sale. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, posizionare la farfalla sulle lame, aggiungere le uova ed azionare i bimbi per 10 minuti. 37 gradi, velocità 4 senza misurino. azionare il bimbi per due minuti a velocità 2 dal forno del coperchio aggiungere prima l'olio e poi l'acqua. togliere la farfalla dal boccale aggiungere la nutella il cacao l'estratto di vaniglia l'amido di mais la farina il sale il lievito ed azionare il bimbi per 3 minuti a velocità 4 versare il composto in una tortiera da 26 centimetri ben imburrata cuocere in forno pre riscaldato statico a 175 gradi per 50 minuti circa fare sempre la prova a stecchino la torta è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e tagliare in due dischi uguali farcire con nutella spolverizzare con granella di nocciole posizionare sopra l'altro disco e decorare con nutella e granella di nocciole torta alla nutella grazie e alla prossima ricetta grazie 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 a tutti.